Siamo con l'allenatore di San Donà, appena terminate le finali dell'anno 14, le sue sensazioni? Le sensazioni sono belle, infatti è il terzo anno che siamo qua al torneo, ci veniamo sempre molto volentieri, è una bella comissima, la qualità è alta e noi veniamo apposta a questo bellissimo torneo proprio per fare esperienza con i nostri atleti ogni anno e siamo contenti perché il livello di pietro è sempre molto alto, si gioca una buona buona lavoro, il clima è severo e quindi ci piace. Un commento sulla finale appena terminata? Sulla finale, arrivare in finale è stato pesante per tutti, sia per noi che per loro penso, la finale è sempre una partita un po' particolare dove chi riesce in quel momento, in quella partita, a fare le cose un po' meglio degli altri, ma è un po' particolare la partita. Noi oggi siamo stati bravi onestamente, c'è un valore importante anche dall'avversario, quindi questo ci fa ancora più onore. Quindi gli avversari sono stati combattivi, ci hanno tenuto in partita, poi alla fine siamo riusciti un po' a emergere con le nostre qualità. Grazie, in bocca al lupo! Prego!